Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, dalle prime ore di domattina arriverà una corrente di aria gelita di origine siberiana associata a perturbazioni estese e persistenti su tutta la nostra penisola. In particolare domenica mattina sono attese precipitazioni nevose sulla 1 tra Parma e Firenze. Al momento prudenza per raffiche di vento in a 12 tra Santo Stefano di Magra e la barriera di Rosignano in Fipili, Tragello e Pisacentro. Segnaliamo neve sulla stale 12 della Betone del Brennero tra Valico della Betone e Lama Mocogno. Per Valanga la statale 477 dell'Alpe di Casaglia è chiusa tra l'incrocio Palazzuolo sul Senio e passo Colla di Casaglia dal chilometro 7 al chilometro 12,4. Ci troviamo nel comune di Palazzuolo sul Senio. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie!